Allora siamo qui con Niccolò Bartalucci dopo la vittoria per 2-1 contro il Ponte Bugianese. Allora Niccolò è stata una partita dura, ti aspettavi un Ponte Bugianese così agguerrito? Sì, sicuramente una partita dura perché quando vai a giocare comunque sia in casa, anche se la classifica per loro sono ultimi, queste sono le partite più dure perché magari puoi prenderle sotto gamba, loro danno tutto per tutto perché vogliono salvarsi e quindi sono delle partite forse anche le più dure. Che ci sono a questo punto del campionato. Tre partite alla fine, c'è da guardare avanti il Seravezza di cui avete lo scontro alla penultima ma soprattutto anche guardarsi da dietro e c'è un atletico Piombino che anche oggi ha vinto e quindi vi sta tallonando, un finale davvero incandescente. Sì, il Piombino ha fatto un girone di ritorno strepitoso, noi proviamo a fare il meglio per queste tre partite e quello che viene... All'ultimo avete un po' sofferto magari anche l'arrembaggio del Ponte Bugianese, poi avete subito la rete, cosa è successo in quegli istanti? È un po' di... poi comunque sia il gioco nel secondo tempo è stato interrotto molte volte perché è stata una partita diciamo maschia, l'espulsione di consonni, quindi ci siamo instabilizzati e però poi è stato un attimo e ci siamo ripresi bene.